Buongiorno, un'idea carina per presentare il dolce a capodanno del panettone è questa. Allora, voi prendete il classico panettone che avete in casa, lo fate a fette in orizzontale e mettete una fetta, prendete una cocotte come questa oppure una più grande, io ho fatto delle monoporzioni, potete fare anche più grande. Mettete una fetta di panettone, poi create un po' di un'emulsione con la ricotta, zucchero a velo e delle gocce di cioccolato e così creiamo praticamente la cassata panettone. Poi bagnate il panettone come volete o con un po' di rumo o anche con un altro tipo di liquore che vi piace, poi mettete un'altra fetta ancora di panettone tutto intorno e lasciate così con la pellicola almeno una notte o tutto un giorno, almeno un 12 ore, ok? Capovolgete la pellicola dalla cocotte e il risultato è questo, eccolo qua, praticamente una cassata panettone, vedete? Semplicissime, si vede anche la ricotta con le gocce di cioccolato, è semplicissimo perché il panettone adesso a casa ce l'abbiamo tutti, è solo un'idea carina per non mangiare il classico panettone la sera di capodanno. Potete fare delle monoporzioni come ho fatto io oppure se avete una cocotte gigante e avete più persone a cena, fate uno grande, altrimenti è anche carino da presentare come monoporzione. Quindi questa è la cassata panettone. Buona degustazione a tutti!